Per il partito europeista Pace, la Moldavia dovrebbe prendere a modello l'Alto Adige. Così, nei giorni scorsi, una delegazione guidata dal presidente Gheorghe Kafkaliuk ha incontrato il sindaco di Bolzano Karamaschi, il capogruppo PD in provincia Repetto e l'ex presidente della provincia Durnbalder. Noi abbiamo la lingua romena e russa, le due etnie, con un livello di sviluppo 55 rumeni e 45 russi sul territorio. Poi ci ha colpito molto le cooperative agricole, perché siamo un paese agricolo e dobbiamo portare questa esperienza per sviluppare il singolo produttore e far crescere l'economia. In Alto Adige gli esponenti del partito hanno visitato anche l'inceneritore e il depuratore. Il piccolo Stato est europeo è infatti ancora molto indietro nelle politiche ambientali. Abbiamo un inquinamento molto alto dell'area e dei terreni e poi abbiamo il cimitero più grande dell'Europa e non esiste ancora una politica che orienterebbe la popolazione verso la costruzione di un crematorio. La Moldavia andrà a elezioni entro l'autunno. Obiettivo di pace è importare le buone pratiche dei paesi europei, di cui l'Alto Adige rappresenta l'esempio più seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.